Beh Secondo me è ridicola proprio Cioè Proprio Non capire un cazzo I'm here Eh Alberto sta usando caustic? Si perchè ora gli hanno messo l'abilità da colosso E tocca usarlo Ma no Mi sono preso delle goleador Mh mh Perchè mi Mi è venuta nostalgia dell'infanzia Tra le ricordate se quale mangiava le medie Vabbè ormai le medie sono un infame Praticamente Me lo scordate che ti cementano i denti Eh già Mamma mia A me mi divertiva fammi cementare i denti dalle goleador No io non mi... Io praticamente Me le Me le mettevo proprio in mezzo ai tanti per non aprire la bocca Bene Io non me lo ricordavo Perchè più che masticarle Le facevo scioglie in bocca No no Era per la filosofia durante più No io le Quelle alla cosa Alla coca No alla cola Alla liquirizia quanto era un buono Oddio che schifo la liquirizia No è buonissimo C'erano... A me lasciavano anche quelle lì rosso fluo verde Che cazzo era falagola? Ciliegia che era? Quelle rosse e verdi erano quelle normali E' ok E' ok Però è di solito mangiavo quelle la coca cola Ah ok E mi è uscito toscano Non si sa perchè Cosa? Mi è uscito toscano coca cola E' ok Voodle Dimmi Ci sono io Ah Arri Sì sì Anche a me piace Anche a me piace l'anice perchè l'avevo L'avevo preso Una volta le caramelle all'anice Avevano un sapore particolare ma buonissimi L'avevo prese da tiger A me da bambina piacevano C'erano i ghiaccioli all'anice Non ho mai sentito Io non ho sentito niente all'anice tranne quelle caramelle Allora Non tutti Non tutti i pacchi di ghiaccioli ce l'avevano Però alcuni avevano i ghiaccioli all'anice Che erano ghiaccioli azzurro Colore azzurro chiaro E mi piacevano un sacco Però effettivamente non ce li hanno tutti La maggioranza non ce li avevano Però mia madre prendeva quelli Perchè mi piaceva Quando li trova Ma sta ancora a voi Anche a voi ancora da vio serve? Sì Tutto a po' solo Me lo son chiamato No abbiamo scherzato di nuovo Certo Forse bisogna togliere il gruppo Tu dici? Dici che sei buggato? No No Invece no E' Apex gente E' Apex Quei momenti divertenti E' Apex E' un bambino speciale con le sue problematiche Un bambino speciale che gli hanno dato 10 milioni di euro E vabbè Dettaglio Vabbè bambino speciale No 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 A me sembra che ci sono un po' troppi supporti Stappati Lo scassa ai baroni A me Pathfinder piace Me piace Pronto 10 Voto 10 No 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 In realtà è francese ripeto Eppure Perché è sempre io Vabbè Gente lì Io sto giocando non posso fare un attimo Va bene vai vai Aiuto Impiccata Ciro Impiccata Oh Vogliamo una bella capata Ditemi quando siamo atti Quando siamo atterrati Quando smetti di scattare magari Vai vi siamo atterrati Vabbè comunque mi avvisa anche il gioco perché fa Parte gente che sono scese persone con noi Vengono Vengo da voi eh Che mi caco Sto laggando come li trovo Tutti Anch'io Tutti a server Non è alla melassa ma è agli scattanzi E' peggio La melassa Diciamo che la P2020 la lascio lì comunque Madonna e non capisco niente Cosa Si sta un po' forse mettendo a posto A me no No Ok sta diventando melassa adesso Sì adesso dagli scatti sta passando la melassa Ma poi c'è gente dove stiamo andando c'è un tizio che sta sparando Lo so l'ho sentito C'è mi sa l'hanno adottato che mi hanno messo Io non sto capendo un cazzo Vai gente che noi con la laga siamo più potenti perchè i gatti fanno più schifo Ah 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 Io sono abituato con la lag che senza Venite merde Comunque si sta una picchia qua di fronte Andiamo a clean a pari Non capisco niente Non ho avanzati due 3 3 E' il caso di dire 3 2 Arrivo Niente mi sta Che bastardo L'hai tritato? Si Vabbè ci aveva quasi un cazzo Ah ma sei te questo come ne ho detto Grazie eh Pure non avendo un cazzo ne ho uccisi due Sai che hai fatto? Oddio Quando fai due litiganti il terzo code E se ne vanta anche Capito? No non stavano litigando Si stavano guardando Ma l'ho Allora Te vengo adesso Mi restate? Eh no Grazie Io uso un accelerante Oh un pochettino sei levata la lag Ho ancora un po' a scatti però Eh ma infatti Pian piano che scendono i giocatori La lag diminuisce Io credo che ho sentito comunque restare pure qua di lato Eh Può essere dato che non c'è nessun altro Uh Fefefefe Che culo E ha trovato il crawler con un selettore di fuoco nella stessa cassa C'è il cosino per Oh mamma mia Oggi della zona Mio dio gente che scatti Si l'avevo visto anche ma Mio dio gente che scatti Mi finiscono a fin ruttare qua ragazzi Perché ho sempre munizioni dell'AMLO Oh oh Ragazzi Cosa? No No ho sbagliato Ho messo giù il drone per sbaglio Ho sbagliato Mia Ehm Dov'è? Mio Mio Ce n'è due Ti direi che quello per disperare Tutto mio Tutto mio Perché mi sa che ho fottuto delle cose io comunque a te Perché non avevo realizzato che era il tuo corpo Si hanno decisamente restato qua comunque di fianco Però ho sentito un altro rest Quindi Stiamo scelto Ehm Sì Ehm Si Ehm Ehm Si Sì Ehm Con la mia enorme velocità Arrivo No, no Semplicemente non sa più ringare il burro Oh, ascolta Te l'ho presa Dai Bambini, non litigate Io ti sparo nei denti Sì Te lo meriti, burro Di cosa? Che devo, chiami la roba da solo e poi pretendi di non dividerla Siamo qua, è retta Tu le vecchie non smizzano un cazzo Io non sei ancora tra te Io direi di andare al deflusso, che c'è un'altra cosa per scoprire il cerchio Tanto vale Qua ci abbiamo luttato, comunque io avevo pingato delle siringhe, gente Sì, lo sta andando a pialle io Io so gonfio di siringhe, non è vero Tu si gonfio? Ragazzi, io una Ray45 e un Emlock Sono nessuno E mai infatti andiamo a luttare d'altra parte E ovvio, o il Bruner e l'Artemeto Dovete armi energetiche voi? No C'erano nelle casse dei morti No, no, armi No, no, armi no Armi no Dale Oh, carré Stai gridando non sei mia madre Mi servono delle munizioni leggere, gente Che ne ho in più Sì, io so solo armi leggere Io ne ho un po' in più Ma non te le darò perché sono pronto Eh, non sono abituato a giocare in 3 Quindi pensavo che tu fossi quella laggiù C'è un drop qui, eh Drop Rosso o blu Non è rosso Allora è un drop di quelli Lo so Ah, ok Io penso di che sto in drop di quelli De quell'altro Ah, così potrai ripigliare la tua armatura viola Che ti ho fatto Qua ci hanno già luttato Quindi stiamoci attenti Non so se ci hanno già luttato O è il bull che ha aperto una cassa No, no Io non ho aperto un cazzo No, no Ma ci sono le porte aperte Stiamoci attenti A tre arte Volete essere picchiati? Vuoi essere picchiato, anzi Sì Che c'è un cazzo No, non c'è un cazzo Io ero nel muoviole o linkage finisce Io il muoviole che ho usato Qua sembrerebbe non abbiano aperto niente Può essere che non hanno ancora finito di luttare Quindi stiamo attenti Oh, porco Davvero? Sì C'è uno che è volato Io ho bisogno un attimo Qua Arrivo, arrivo, arrivo Tiro, mettete in cover Ah È ucciso tutto il team Brava Complimenti Oddio Ce n'è un altro Eccolo Che è una mira di merda per fortuna Allo scudo blu È qui Io non posso, eh Devo curarmi È, ha quasi finito la vita Albia È Se avessi anche io una mira buona Aveva 13 limiti Oh, oh, oh Altra gente Da lì Da sopra Un attimo Un attimo gente Mi barrico Che se no muoio C'era uno spitfire Voglio quello spitfire Se metto a luttare muoio Arrivo Fallo venire alla porta Vai, è giù, è giù Interessatemi Ho provato, ho fatto C'è un'armatura blu Ricaricata Eh, Ciro Ciro, vieni qui C'è un'armatura blu anche qui No, l'ho fatto Però voglio lo spitfire Voglio lo spitfire Che c'è anche al Pathfinder Mia Mia, 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 mia C'è un'altra arma pesante Da qualche parte Che fanno questi tizi Non c'ho fatto quasi Un'altra armatura blu Mi serve di cambiare Stacate No, hanno restato qua a fianco gente Sì, lo sento C'ho bisogno Madonna, se c'ho bisogno Gente, mi servono degli scudi Sono piena Eh, io sì C'ho solamente uno Vieni qua, vieni qua Madonna Ma nessuno ha trovato armi pesanti In questa partita Non l'ho capito Eh, ho trovato solo lo spitfire Nel Pathfinder morto E l'ho presa io perché Tanto io non ho neanche munizioni pesanti Tutto questo Comunque c'era un peacekeeper qua Con 64 munizioni volendo Stiamo insieme gente Perché hanno restato qua a fianco Se venite qua vi curo Se mai Ciro vai a cosare Vai a vedere Della prossima area Che bello Io sono arrivato da dietro Con il rampino No, ho fatto una stronzata Volevo Io 3 kill quando l'ho fatto In tutto ciò Ah, due all'inizio Io ho fatto solo danni Che servono sempre C'è uno scudo blu qua È pieno dei scudi blu De 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 Piena E Berto Quello c'è problema Che Alberto Abbia problemi Lo sappiamo tutti Grazie Sì Madonna Quanto stanno Nelessando Siamo 4 squadre Rimaste Comunque Che cazzo Costa safe Non deve essere successo Qualche delirio Se si andasse Alla Su pasche Gente Comunque Ragazzi Chiamo un drop Ditto che Alberto Dopo protesta Gente Qui hanno messo Una zipline Di pathfinder Non so Quello che probabilmente Sono andati a ruttare Cioè a restare Ma no La loro squadra Non è morta In teoria Quanti ne erano Non te l'ho voluto rubare Oh scusa Te lo do a te Tempo ce l'abbiamo Tutti L'elmo viola Sì Allora Ero l'unica stronza Niente Sto andando Sulla nave Ok Vengo anch'io Mi sa che non c'è niente C'è un'arma Dei munizioni pesanti Magari Lasciate Quelle servono anche a me Cioè sono un bot Dei munizioni pesanti Io ne ho 27 Ciro Ok È pieno di munizioni pesanti Va bene Mettere Gente Sì Per chi lo vuole Cos'è Va io perché Pathfinder Aveva lo zaino dorato Ho trovato un coso Una stabilizzatore di canne Viola Cioè non viola Doro Lol Chissà che Cosa comprende Non mi ricordo È arrivata a riduzione Del rinculo Comunque c'è un sacco anche di munizioni per te Berto C'è un piscito È il problema che non ho spazio Dovremmo Che dite Dovremmo andarcela safe Andiamo verso la fossa Che lì è in safe Metti pinga Grazie Non l'ho preso la zipline Perché sono troppo uomo Sei troppo uomo Esatto Siete una femminuccia E un robot Che poi è un uomo Scimpanzee più che altro No Non sono uno scimpanse Sono uno maccione bellissimo C'è un altro kit finisce gente Io ce l'ho Lo prendo io Ma qui non ha luttato nessuno Nella forza Ma dipende da dove scende la gente Non è sempre Eh ma la forza di solito È molto richiesta È molto richiesta Oddio gente 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 Io ho armi solo porta Mi hai lanciato Anche io Dietro di noi Oh l'ho preso Prendiamo prima 8 Ah mi sei in mezzo La merda Sono dietro Quello a terra Ciro coprimi che resto Cosa Non posso Cazzo Ma che dolori Mi piace chino Oh no Al Krabber Al Krabber Dietro di te Eh minculo Il Krabber che è il cecchino leggendario Sì Eh vaffanculo Cazzo Gente io Penso farò l'ultima Poi vado a fare La doccia Che sfiga Però porca troia 600 milioni 600 milioni Tanti flitti Lol Cioè ci siamo trovati a panino Provala a sapere Che venivano tutti lì Non è che ce l'hanno sempre Pathfinder Più che altro Quello dietro di noi Mi sa che era rimasto solo Il problema è che il tizio davanti O c'aveva il Krabber Che può essere In realtà Mi è sembrato O C'aveva una mira Della madonna Perché io ho sparato In mezzo caricatore In faccia E mi è riuscito A piacquare prima Io gente Non ho avuto Cioè Mi sono ritrovato Quando sono arrivati I nemici In mezzo Alla piazza Senza neanche una cover Quindi sono morto In automatico Eh Io me l'ho messa Di due all'ulto Infatti Comunque mi sono cagata sotto Quando ho iniziato a sentire Perché ho sentito Il suono di un cecchino E ho realizzato Che uno Non era possibile Che eravamo noi Che nessuno c'aveva il cecchino Due Perché avremmo dovuto sparare Vai vai Io invece direi Di più qua sotto Perché lì Non c'è quasi mai un cazzo Beh Non c'è più Di solito Io non c'è mai un cazzo Vabbè Per me è uguale Sì sì Ormai siamo qui Tanto cambia poco Tanto siamo arrivati Da tutte belle parti In mezzo Oh Questa intanto Siamo arrivati alla fine Io fa Beh Magari non lottiamo Nella stessa casa Sennò Ah E bimadonna Orza Se Alberto mi lasciasse Dere equipaggiamento Ogni tanto No Ormai sono la dominatura Guarda Mi barrico anche dentro Possiamo Taspereci che ti resti Vai Ma guarda In realtà Non dovevi neanche Penso Ti dico Non Non Prossima volta Evita proprio Di pensarci In quella situazione Perché restare In una cosa del genere Era morte Certa No Non stavo restando nessuno No però Volevi provarci No volevo curare Mi stavo curando E volevo Tentare di sparare La gente E beh mi hai detto Coprimi che Resto No Coprimi che mi curo L'ha detto Ah avevo capito Mi stavo curando Cioè Mi stavo mettendo Anch'io Lo scudo Gente qualcuno Ha un'arma da distanza Cioè un cecchino Io si Ho un G7 scout Ho questo Ho trovato Dubiskiper Ma guarda In realtà Se riesco Me la devo In fretta Perfetto Infatti Prole Via ste robe Comunque c'è un Oh quello me lo pio io Te ci sono anche le Me le sono tolte Di dosso Un secondo Falle Ne aziende Problema che non c'ho Niente Per ora Arrivo Ma poi Hai trovato C'è Tutto Qui c'è anche un Settore di fuoco Per chi interessa Ui 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 A posto C'è lui Senta Stotto il disco Segnate la Budle Che se no La perdi Ma cosa L'armatura Blu Sento Sparare Relativamente Da vicino Sì Anche Ma perché Qua vicino C'è la cosa C'è Quella Zona Sopraelevata Sì Sì Quella Lì Sì Non so Non mi ricordo I nomi D'esta Mappa Dove era Budle Non so Ok Non sono Trasciato C'è un altro Turbo No E il selettore Di fuoco Budle Dove Eccolo qua Ma come sono Piena tornata Esatto Aspetta Vabbè Uso la Ust Vaffanculo Ma fallirò Anche per quella Ok Sì Non c'è un cazzo Granelle Belli che Poi di prima Erano anche Semiferiti Perché io avevo Buttato tipo Un bordello Di granate In faccia E mi aveva Dato Uno C'aveva Lo scudo dorato Tra l'altro Quelli Quelli Stronti Sì Quelli Avevano Luttato Anche L'anima Ragazzi Sì No C'avevano Lo scudo dorato Perché Quando mi ha Dato il segno De Della cosa Mi era Scudo dorato Mi sono spaventata A morte Sono io Come scliccato Non si Che comincia Una Ti sei spaventata Del tuo stesso Spato Allora Perché Sono È molto Allora Allora Vaffaculo Vaffaculo Va bene Vaffaculo Dove è colpa mia Sta merda È molto più delicato Che il mio vecchio mouse E non sono più Abituata Giardino Non ridere Vaffaculo Anche a te Ma sta cazzo Ridi Ma ma perché Ma sciro Lo vuoi prendere Il cazzillo Quello Quella safe E infatti Sto andando Mi sono tutta Fa un giro Estremo Giardino Ehi Perché non posso Piedere la forza Ma non sembra Essere stato Luttato Te ne scendo Berto Si piglia Io ho fatto Voodle Ti odio Ma perché Ti sei atterrato A dos Esatto Pezzo di mare Io non lo farei male C'ho leva Flatline Sparacoriandoli Ma perché Perché ti sei lasciato Dietro Questi Le cose Energetiche Perché non ho spazio Ah ok Allora non ti do Neanche quello Che avevo preso Eh no Ora No trovate Tipo Ok Ora ho spazio Eh torni indietro La buttate C'è Ci sono due squadre Da quel lato Tre squadre Li vedete I loot No Le vedete Ste scie nere Nel cielo Sono tutti i drop Dell'healer Di lifeline Ah apposto Nice Mi piace No quello laggiù No perché è lento Qual è Quello laggiù È il drop normale Eh Si hanno Ah no Aspè ci sono due loot Ho ci fatto Cosa adesso Stanno arrivando Due carpelle Qui c'è Alla prima safe Arrivano due Perché Non mi ricordo Cioè Ci ho mai fatto Longbo No quello Siamo tutti Longbo No non lo prendo Why not In realtà Anche perché Può essere pure Che ci riesca Fa qualcosa Io ho chiamato Un pacco Ok C'è qualcosa di buono Regatura Casco viola Gente Arriva La fate Andiamo di qua Tanto ce l'abbiamo Me per curare Nel caso Se trovate C'è anche una cosa Una Che giro ho fatto Un calcio standard Sarei contento Eh L'ho appena preso Per me Vabbè Sì Per te Va bene Sì Ma che a me Mi manco Qui c'è un calcio Da cecchino No mi serve Che non è normale Io sta parte La odio Perché ci ho perso Due volte In una partita Fattibilissima Perché ci hanno Inculato Dalle scale Venite qua C'è una supply ship Inbound No Albi smetti Ti baggare Ti baggare Ti baggare Quello che Stai cheat Lui ti bagga Nel senso che Bagga il gioco Fa vedere C'è un altro cosetto Per path to find No No Quello quell'altro Poi non li hai usati Ah no Qua no Non c'è No Non è sempre Sono più Sono random Da quel che ho visto Non c'è sempre Nei stessi punti Dipende dal Diciamo da come si chiude la safe Non lo sapevo No in realtà Neanche io L'ho scoperto ieri Ma c'è anche da dire Che sti cosetti Giocando da sola Non li uso mai Perché tanto La gente Appena muore Si disconnette Vaffanculo Burle L'ultima Accelerator Avere il posto Eh no Eh vabbè Troppo qualcosa Usalo E poi Troppo la tua facca Va bene No Perché la mia faccia È bellissima No 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 Non lo so Se ci conviene Da salire Secondo me Stare in una conca È probabilmente Tatticamente Sbagliatissimo Si Sono d'accordo Ti vedono di meno Che qua Qua è molto più aperto Guarda qua Vabbè Allora Non scocciate Io andrei qua Non è colpa mia Se becco I Ora c'è un loot Aperto C'è un 2-4 2-4 Lo prendo io Con l'emlock Sento rumori Sento rumori di qua Quanto è bello Pathfinder Trovate un caricatore esteso Per gli armi pesanti Fatelo spero Non mi ha trovato uno In tutta la partita Io ne ho solo uno Però un luccichi Una luccina Che mi sembrava un coso Un drop legend Voleve Scusate Occhio eh Sì qui è un merdaio Però il bad è che Sembra non ci sia passato Nessuno Che altro guardiamo Sì il culo gente Sempre a guardarsi il culo Sì Una granella però me la prendo qua Watch your hands Siamo ancora sette team Siamo ancora sette team Uno spazio per un cazzo 10 secondi Il ring è abbastanza close Volevo delle punizioni pesanti Ne ho a valanghe Perfetto anche io Ok Uh aspetta No ok Mi era sembrato un movimento Invece era sta cazzo De pozza d'acqua di merda Quanto c'è la ultima Volevo delle immagino Tipo 50% No 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 So al 93% Il leader è ancora quello lì Che era all'inizio gente Può accadarsi che non ha più in contatto nessuno Con 98% ragazzi C'è un drop preciso al bunker Secondo me non è proprio l'ottimo Un posto ottimo Secondo me ci andrà tutto E' appunto Non è proprio Io ho chiamato il mio Oddio Forse non è stata avverata Dato che siamo arrivati noi Che è un buon posto per entrare nella safe Sai che vorrebbe essere anche una buona idea Andare e nascondersi per il drop E poi il drop Drop Ah stanno già sparando lì gente Ah sì Sì Sentite Si sento sparare Un botto E stanno allora Qualcuno E' l'assunto Il terzo quadro E' l'assunto Avviciniamoci su questa casa qua gente Senza farci vedere Stanno partendo tra di loro Non ce fanno Io direi quasi aspettare un minimo Cosa marzuliano loro E dopodiché Eccoli guarda Stanno pushando Hanno già luttato Io gli andrei dietro Ci conviene andare Perché loro stanno pushando quelli lì Sentite posso fare una zipline Falla veloce vai Io lancio la mia ulti lì eh Va bene Prendo l'R301 com'è no? Sono dentro sta casa Secondo me No sono andati in là Sono di qua Ci spavano da di qua No cazzo Ciro dietro Occhio Io ho visto Io sono morta praticamente E' stato morto No io sono morta gente No ehm Ci hanno fatto il contropanino Ma quante cazzo mi scuole erano? Due Sì ok Ma che stavano sparando Quelli là Che stavamo sparando noi Erano tre Madonna Io non ho fatto niente Io ho quasi ucciso un tizio Io A parte che Penso di aver svinato un po' troppo qui Vabbè Capita E' proprio zero zero Sì Vabbè Dico basta E vado a fare La doccia Io stacco un attimo Cioè rimango su discord Però stacco da Cosa No in realtà Stacchero da diso Perché metto a guardare cose